Il nuovo format tv Il corso delle nostre puntate abbiamo parlato dei disturbi, della dipendenza dal gioco d'azzardo, abbiamo coinvolto l'Università di Arezzo per quanto riguarda la ricerca sul bullismo, tema affrontato anche con la dottoressa Ilaria Bidini, abbiamo parlato di ispezione scolastica, di ansia e attacchi di panico. Quest'oggi apriamo invece una nuova tematica dedicata ai disturbi alimentari e lo facciamo con la dottoressa Laura Ceccherelli, psicoterapesi. Grazie per averci dato il nostro invito e averci ospitato nel tuo studio. Grazie a voi. Allora io partirei dall'inizio, cosa si intende per disturbo alimentare? Per disturbo alimentare si intende tutti quei disturbi che hanno a che fare con l'alimentazione. Abbiamo l'anoressia, la bulimia, il disturbo da alimentazione incontrollata, il bingeing disorder e l'obesità iperfagica. Tutti questi disturbi hanno a che fare con una sintomatologia, in questi casi sono tutti quanti differenti. Ma più che altro vorrei fare prima una introduzione sul contesto storico attuale in cui si inseriscono questi disturbi. Infatti vengono definiti un po' come anche nuove formazioni del sintomo, in quanto una volta la sintomatologia aveva più un carattere metaforico, cioè per ogni soggetto il proprio disturbo, il proprio sintomo era unico, personale, più criptico, era da decifrare in pratica. In questo caso, oggigiorno, il disturbo alimentare emerge proprio come problema sociale, in quanto crollano le coordinate simboliche di riferimento, per cui il soggetto cresce anche in contesti familiari dove la posizione soggettiva del figlio ha un investimento narcisistico più che simbolico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il figlio, invece che avere più strumenti per affrontare le difficoltà che lo collocano al mondo, utilizza altre insegne identificatorie come può essere l'identificazione anche al disturbo alimentare. Per cui invece che avere un rapporto legato agli altri, c'è un muro che separa il soggetto dall'altro, c'è un cortocircuito sul proprio corpo e un investimento molto forte su un oggetto della pulsione che in questo caso è il cibo. Per cui tutte le pratiche che sono legate a questo oggetto, per cui da un ipercontrollo, ad esempio nell'anoressia, ha una pratica di introiezione e svuotamento nella bulimia, ha delle abbuffate incontrollate a seguito a un aspetto depressivo, ad esempio nel binge eating disorder, e invece un legame di iperfagia, di diffusione con l'oggetto orale, ad esempio nell'obesità iperfagica. Quali sono più o meno le fasce di età che vanno a, forse più coinvolte in questi disturbi? Allora, la fascia di età in un certo qual modo, ora come ora attualmente, diciamo che non ci sono, nel senso che possiamo vedere anche disturbi alimentari come l'anoressia insorgere anche in bambini molto piccoli, possono avvenire anche in una fascia di età, dall'adolescenza all'età adulta, sono molto legati a degli eventi, a delle contingenze specifiche. Maggiormente il disturbo alimentare, soprattutto per quello che riguarda l'anoressia e la bulimia, sono più legati al sesso femminile, legato più alla ragazza e maggiormente nel periodo della pubertà c'è l'insorgenza di questi disturbi. Però questo non toglie che in qualsiasi momento della vita, laddove c'è un legame molto forte con la questione dell'alimentazione, possa poi manifestarsi anche in altre situazioni, in altri contesti, in altri momenti storici della persona, che magari prima non si sono mai manifestati. Ecco, come fa il familiare oppure anche la persona stessa a distinguere che si tratta di una malattia e non da una semplice, da delle semplici magari abbuffate, oppure da delle semplici momenti in cui non si vuole mangiare per via di dieta, non so, vengono esempi un po' così. Beh, allora, la cosa molto più che salta all'occhio è proprio lo scollamento da un sistema, diciamo, di simbolico classico, ad esempio, il momento del pasto a tavola. Ecco, prendiamo semplicemente questo che tutti quanti noi a casa possiamo avere in famiglia, no? Allora, c'è proprio un tentativo di isolarsi da questo, c'è un allontanamento, ad esempio nell'anoressia, c'è proprio l'ansia nel momento in cui c'è la condivisione del pasto. Invece, negli altri aspetti dove c'è l'abbuffata, c'è un ritirarsi e un rimanere da soli in questo momento della grande abbuffata. I sintomi possono essere, diciamo, dall'eccessivo nervosismo al demagrimento, ad esempio, nell'anoressia molto, molto forte, dove c'è questo imperativo molto forte ad incarnare un'immagine specifica corporea, quindi il corpo magro, che rappresenta qualcosa proprio nella donna, ha invece una perdita, ad esempio, libidica del proprio corpo e quindi nell'obesità c'è proprio essere un po' lo scarto, no? Non c'è un investimento della donna o anche dell'uomo del proprio corpo. Ecco, una cosa molto importante rispetto a disturbi alimentari è la funzione che questi hanno per il soggetto stesso. In genere si sente parlare come disturbi della condotta alimentare, certo, questo è vero, è abbastanza palese, ma questo sintomo serve al soggetto e serve per tentare in maniera, con un corto circuito, di recuperare una soggettività. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il soggetto non riesce ad appellarsi agli altri, a fare una domanda di aiuto in una maniera canonica, utilizzando il linguaggio, c'è un disinvestimento rispetto al linguaggio e c'è un corto circuito sul corpo, quindi in questa maniera, forse non trovando nella vita reale di tutti i giorni e quindi un posto esistenziale, quale poteva essere quello atteso dal soggetto, c'è un rifiuto dell'altra persona, degli altri che possono dare questo riconoscimento e allora c'è un riconoscimento che uno trova nel controllo dell'alimentazione e quindi c'è questo, c'è proprio una dinamica di un binomio molto stretto tra il soggetto e l'oggetto cibo che però taglia i punti con tutti gli altri, per questo che può essere molto più complesso delle altre sintomatologie l'approccio terapeutico a questo disturbo, perché proprio va fatto un processo più graduale, più lento, in modo che la persona possa anche affidarsi, sentire di poter costruire un altro aspetto metaforico rispetto a questo, che possa essere più congeniale al soggetto. Di quelle che finora ci hai elencato, quali sono le più diffuse nei nostri tempi? Ricordiamo che questi sono disturbi che forse fino a 30-40 anni fa, forse ce ne erano in casi rari comunque. Certo, perché aumenta la spinta capitalistica al consumo degli oggetti, per cui le persone sono molto più portate o a difendersi da questo, quindi nel caso dell'anoressia, oppure ad aderire e quindi ad abbuffarsi, quindi a creare proprio un, vediamo proprio come ci sono tutte le insegne alimentari da, non so, Mangiarzano, oppure altre catene alimentari americane che portano a invece a, fate l'amore con il sapore, a queste cose qua. Abbiamo anche affrontato la dipendenza da nuova tecnologia, può influire anche il fatto di rimanere sempre, di lamentarsi anche da solitudine, perché se davanti a uno schermo alla fine si è soli, potrebbe influenzare l'arrivo di questi disturbi poi? Ma diciamo che è un po' tutto correlato, cioè c'è un impoverimento proprio del rapporto con gli altri, per cui c'è una solitudine sempre maggiore e ci sono metodi compensatori per far fronte a questa solitudine, a queste difficoltà e diciamo che appunto nel disturbo alimentare c'è proprio questo scollamento dagli altri, come tu appunto dicevi rispetto all'isolamento nel computer, al trovare una via parallela, un'altra realtà, un'altra dimensione che nell'essere controllata allora c'è una sorta di pacificazione rispetto anche all'angoscia, cioè è un trattamento, in realtà sono trattamenti dell'angoscia come il soggetto può, diciamo che ognuno trova un po' il sintomo che gli può essere più congeniale come meglio può, quindi non è che una cosa molto importante è appunto rispetto, cioè come ci sono molti più casi diciamo rispetto ad un consumo irrefrenabile e altre tanti anche come astensione, era una dinamica simile però una diciamo nell'alienazione rispetto al cibo, quindi si fa tutt'uno col cibo, quindi c'è questo momento di ad esempio le abbuffate, dall'altra parte invece nell'anoressia, quindi è estremizzato, c'è più che altro una difesa da questo, quindi un tentativo di separazione da un oggetto di godimento insomma alimentare. Poi affronteremo queste tematiche nella prossima puntata dove andremo a approfondire proprio l'anoressia e la bulimia. Per quanto riguarda quest'oggi, nella seconda parte andremo poi a presentare l'associazione di cui fai parte, siete promotrici insieme anche ad altri professionisti, adesso un po' di pubblicità e poi ci troviamo insieme per la seconda parte di Vivere. Rieccoci insieme per la seconda parte di Vivere, quest'oggi parliamo dei disturbi alimentari con la dottoressa Laura Ceccherelli, nel primo spazio abbiamo dato un'infarinatura generica di quello che sono oggi disturbi alimentari, in questo secondo spazio invece volevo aprire con la presentazione dell'associazione Girotondo intorno al sogno, un'associazione nata e costruita appunto per chi ha bisogno di aiuto e cerca una mano. Certo, allora Girotondo intorno al sogno è un'associazione di promozione sociale di cui faccio parte, di cui sono appunto psicoterapeuta e è un'associazione che nasce proprio per fare ricerca, prevenzione e accoglienza di quelli che possono essere i disagi che circolano intorno alle fasce di età sia dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta. Si avvale di un'equipe molto multidisciplinare per affrontare queste tematiche e lavora sia in istituzioni private che pubbliche. Questa associazione ha da poco proposto un progetto che si chiama Filo di Arianna. Filo di Arianna è un progetto di consulenze, offre tre consulenze ai propri soci e di orientamento rispetto alle proprie difficoltà, quindi possono essere chi ha problematiche di vario genere, dei dubbi, delle situazioni un po' complesse a casa con dei cari, con degli amici, che magari non vuole ancora incontrare un professionista, ma vuole avere praticamente un quadro di una situazione per poi capire cosa voler fare. Si chiama Filo di Arianna appunto perché riprende il tema dalla storia di Arianna che offre a Teseo un filo per entrare nel labirinto, affrontare e vincere il Minotauro e poterne uscire avendo sconfitto appunto ciò che più gli stava scomodo e complesso da poter affrontare. Per cui offre un po' la scoperta di un filo biologico che sottintende a una sofferenza e per poter poi anche maneggiare meglio la propria difficoltà. Ecco, è più facile che sia il soggetto stesso interessato a rivolgersi all'associazione oppure ai familiari? Dipende, dipende questo. Ad esempio dove non c'è un riconoscimento della propria domanda, difficoltà, allora arrivano i familiari. Questa è proprio anche la metodologia peculiare rispetto a una sintomatologia, laddove una persona si dice quando è egosintonica non la riconosce e allora arrivano gli altri ad occuparsi della persona. Quando invece è egodistonica uno si rende conto della sua difficoltà, però alle volte non sa a chi rivolgersi, come fare, a chi contattare, magari ci può essere anche un po' di imbarazzo e vergogna, per cui magari un progetto del genere può essere utile in questo. Sicuramente, poi considerando il fatto, come prima dicevi tu, che a giorno d'oggi è molto difficile anche esternare i propri problemi, forse è anche questa la causa che va ad influenzare ancora di più questi disturbi. Sì, infatti verbalizzare e riconoscere un proprio problema è già un passo avanti. Vuol dire già volerlo risolvere. Sì, è già l'anticamera della cura di un percorso terapeutico, però in questo caso diciamo che infatti noi abbiamo già anche notato come le persone che contattano i numeri appunto offerti da questo progetto non lo fanno normalmente con una telefonata o via Facebook, su WhatsApp, quindi in maniera più in punta dei piedi e questo non è appunto da criticare assolutamente, anzi benvenga che ci siano delle modalità proprie, anche più di pudore per esporre una difficoltà e per prendere un appuntamento. In pratica ci sono dei numeri di riferimento a cui poterte telefonare. Disponibile sui social? Sì, c'è un sito nel sito del girotondo intorno al sogno, c'è la presentazione del progetto e appunto le figure che possono essere contattate per questo. Ecco il messaggio che noi lanciamo sempre a chi ci sta guardando è che comunque da qualsiasi disturbo si può comunque uscire, la strada è dura però anche dai disturbi alimentari come onoressia, bulimia o quelli di cui abbiamo parlato in primo spazio c'è uno spirale di luce, sempre. Assolutamente sì, assolutamente sì, sicuramente in tutti questi disturbi alimentari di cui abbiamo parlato prima c'è bisogno anche di un coinvolgimento della famiglia sicuramente. Prima di chiudere sì, volevo infatti affrontare la tematica della famiglia perché secondo me è molto importante in fase soprattutto adolescenziale, cosa deve fare una famiglia se si rende conto comunque che il proprio ragazzo o il proprio ragazza si trova in mezzo a queste problematiche? Di sicuro può fare anche domanda insieme alla ragazza o al ragazzo oppure in questo il sostegno è molto importante e può essere anche un percorso, non dico assieme, però insomma sicuramente di supporto. Con la famiglia invece è diverso, nel senso che in genere sono tutte sintomatologie che angosciano moltissimo i genitori perché è proprio un appello, proprio cercare di far nascere nei genitori una domanda forte, per cui in genere sono i genitori che chiamano in difficoltà e poi viene la persona in questione però il lavoro è da fare in doppio binario insomma, nel lato della famiglia e nel lato del soggetto interessato. Nel caso territoriale di Arezzo quali sono i numeri, se le statistiche che si possono dare riguardo ai disturbi alimentari, quante persone più o meno sono coinvolte, quante riescono comunque poi a superare questi problemi? Allora diciamo che dipende un po' dalla gravità perché statistiche proprio chiare così c'è da fare semmai un distingo, cioè dai casi molto gravi dove magari hanno necessità di un'ospedalizzazione, per cui prima viene comunque sia la tutela del corpo, perché questa è in primis, cioè la vita è prioritaria, dopodiché può entrare in campo anche un aspetto psicoterapico che va proprio ad approfondire qual è la funzione per il soggetto del disturbo alimentare e allora lì si possono trovare altre vie ad uscita rispetto al sintomo che si è incontrato. Ecco, è un percorso comunque sia lungo, ma sicuramente può dare degli ottimi risultati. Io ti ringrazio per la disponibilità e vi troveremo Laura Ceccherelli nella prossima puntata quando andremo a affrontare tematiche come anoressia e bulimia. Io vi ringrazio per essere stati con noi e averci seguito in questa nuova puntata di Vivere. Noi vi lasciamo con i prossimi appuntamenti da Rizio TV, ci vedremo insieme nella settimana prossima.